E' iniziata intorno alle 5.30 l'operazione di sgombero degli alloggi occupati abusivamente in località Satriano ad Angri, operazioni che si sono svolte senza particolari difficoltà e che hanno visto protagonisti i carabinieri, la questura, la polizia locale, i vigili del fuoco sul posto, anche le ambulanze. Per fortuna non si sono registrate tensioni, 10 gli appartamenti che sono stati liberati, altre due famiglie avevano già lasciato gli alloggi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi inoltre era stata bloccata sia l'erogazione dell'energia elettrica che l'erogazione idrica. Intanto questa mattina sono stati murati tutti gli alloggi per evitare ulteriori occupazioni. Nel frattempo è stata finalmente pubblicata l'attesa gradatoria per l'assegnazione degli alloggi ai legittimi assegnatari. È stata fatta una ordinanza immediatamente dopo le occupazioni, poi come ho detto già in altre occasioni, pur avendo invitato gli occupanti ad abbandonare gli alloggi occupati abusivamente, chiaramente poi la questione è passata di mano alle autorità competenti, per cui lo sgombro era un atto dovuto. Ora qual è l'iter con la pubblicazione dell'agrodatoria? Bisognerà ancora attendere nel caso in cui ci fossero ulteriori ricorsi? Credo che sia proprio l'altro aspetto, cioè sicuramente ci vorrà del tempo perché la gradatoria dovrà essere pubblicata per 30 giorni, ma in questi 30 giorni certamente, sono 580 domande, certamente ci sarà qualche ricorrente per cui si perderà ancora tempo, ma nei fatti però siamo certi che ci sono gli assegnatari, un elenco di assegnatari almeno c'è ed è sicuro. Quanti sono gli alloggi disponibili? 12 erano stati occupati, la gradatoria è per 22? 12 sono stati consegnati, la gradatoria è per 32, quindi restano da consegnare questi altri 20 alloggi. Rispetto a tutte le polemiche sorte in questi giorni, rispetto alla regia neanche tanto occulta che c'è stata per questa cosa dell'occupazione abusiva, chiaramente ci saranno le indagini da parte della procura, sono state sport e denunce, naturalmente anche io farò variere tutti gli interessi della comunità nei confronti di chi ha fomentato o di chi ha gestito questa vicenda in modo più o meno occulto. Non solo, credo che sia anche doveroso denunciare tutti coloro i quali hanno inveito nei miei confronti inutilmente, visto che io faccio il sindaco, non sono qui per altri motivi, per cui cercheremo di far valere tutti i nostri diritti in tutte le sedi. Anche oggi lì davanti c'è uno striscione contro di lei. Ma il fatto che ci sia lo striscione onestamente mi interessa fino a un certo punto. Quello che però vorrei che fosse chiaro a tutti è che non è con la prevaricazione, con la violenza, con gli abusi, con gli atteggiamenti prepotenti che si possono far valere i propri diritti. E non è che neanche alzando la voce o usando violenze si può pensare di aver diritto nella fattispecie a una casa o a qualsiasi altro diritto di cui c'è esigenza. Per scongiurare nuove occupazioni in questo momento di vuoto, nel momento in cui ancora non saranno assegnati gli alloggi, perché questa alloggi dovrà essere, come ne diceva, fissa per 30 giorni e poi potrebbero esserci ricorsi. Sono stati murati gli appartamenti, ma è stata anche bloccata l'erogazione idrica, l'erogazione delle energie elettriche. Beh, l'erogazione è stata immediatamente bloccata, ma l'aspetto che più mi preme sottolineare è che questi alloggi sono di proprietà dell'intera comunità, non sono del sindaco, ovviamente, il quale è qui e poi non ci sarà più come sindaco, ci sarà un altro sindaco. Questi sono beni immobili di proprietà di un'intera collettività. Siamo 34 mila abitanti, proprietari di questi immobili che sono stati realizzati per quei cittadini meno fortunati di altri che hanno la necessità di dover accedere al diritto all'abitazione.